Ora è possibile ordinare la nuova Tiguan presso le concessionarie Volkswagen italiane. Il SUV di maggior successo in Europa si rinnova per diventare ancora più attraente, sicuro, efficiente e connesso. In sintesi una Tiguan ancora più evoluta. Al lancio la gamma italiana è composta dagli allestimenti Life Elegance Airline e permette la scelta tra quattro motori 1.5 TSI Act da 130 o 150 CV e 2.0 TDI SCR da 122 o 150 CV con cambi manuali a 6 rapporti o automatico doppia frizione di ISG a 7 rapporti. Il turbodiesel più potente può essere anche accoppiato alla trazione integrale 4Motion. Tutti i motori sono omologati secondo le normative anti-inquinamento Euro 6D ISC FCM. Le principali dotazioni di serie della nuova Tiguan prevedono sin dall'allestimento d'accesso i sistemi di assistenza alla guida più avanzati, ossia cruise control adattivo, lane assist, front assist con frenata d'emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, side assist plus con real traffic alert e pre-crash. Inoltre sono di serie cerchi in lega da 17 pollici, fari a LED, climatizzatore automatico climatronica a tre zone, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, radio con online connectivity unit e servizi WeConnect Plus. La Volkswagen Tiguan è il SUV di maggior successo a livello europeo e uno tra i più venduti in tutto il mondo. Fino ad oggi è stato prodotto in oltre 6 milioni di esemplari, con circa 911 mila unità nel 2019 è stato di nuovo il modello più richiesto della marca e di tutto il gruppo Volkswagen. Ora il SUV best seller si presenta in una nuova veste ricca di evoluzioni sostanziali. I prezzi di listino della nuova Tiguan partono da 31.150 euro con le prime consegne ai clienti previste per ottobre.